Perché ho letto alcune cose su una situazione molto delicata che è stata la morte di Gabriele Sandri nel 2011, scusa nel 2007, 11 novembre e volevo chiarire solamente e specialmente verso la famiglia e anche i tifosi raciali ovviamente che la mia decisione di non mettere il lutto quel giorno era semplicemente legata al fatto che non si sapeva in quel momento di che cosa si trattava, ma ovviamente rispetto, ho sempre rispettato le mancanze, si mancherebbe altro di persone care, di chiunque e quindi ho fatto anche le condolianze alla famiglia dopo la partita, comunque lo rifaccio, chiedo scusa alla famiglia se per qualsiasi motivo si sono sentito offesi per questo motivo, però non è stato un gesto contro nessuno, semplicemente probabilmente una settimana dopo l'avrei messo avendo capito bene di cosa si trattava, quindi volevo solo anticipare questa cosa e così possiamo cominciare con la conferenza stampa, ci tenevo perché credo che queste sono cose umane, aspetti umani che ci tengo molto a chiarire insomma, grazie. Punta su tutti i fondamentali che servono per poter arrivare a risultati, insomma il rimedio migliore di vincere, questo sembra scontato, quindi quello che cercheremo con almeno un risultato positivo e questo venga attraverso buone prestazioni come sempre dico, è sempre meglio cercare di di giocare bene, di giocare almeno come squadra uniti, con coraggio, con giusta intensità per poi cercare il risultato, questo sarà l'obiettivo anche di questa domenica sapendo che si trova davanti una nostra squadra, una buonissima squadra, con dei giocatori importanti e quindi il nostro meglio sarà richiesto, è lo stesso perché da parte della società non ho mai sentito nessuna cosa a riguardo, quindi prima della mia firma sono state dette queste cose e quindi finché la società non mi dice il contrario per me rimane quello, non posso dire il contrario, quindi sono sempre molto motivato, sono convinto che la squadra farà meglio, che i risultati miglioreranno e come hai detto bene tu è l'interesse di tutti, insomma giocatori, allenatore, società, i nostri tifosi, tutti vogliamo migliorare i nostri risultati e stiamo lavorando assieme per riuscirci. Vabbè è stata una richiesta che ho fatto due giorni fa, ho cambiato anche l'allamento per poter avere tempo con il signor Gagliani di parlare con calma su tutto, è stato molto costruttivo, io l'ho chiesto assolutamente di starmi vicino, come abbiamo concordato prima della mia firma perché non sono venuto qui pensando che potevo fare da solo, prima di tutto perché manca esperienza da un certo punto di vista e quindi con l'esperienza di Gagliani sono ben contento che lui ha accettato di avvicinarsi di più, di stare più vicino a me e alla squadra perché la società che ho conosciuto 12 anni fa è sempre stata forte in un momento di difficoltà e quindi anche in questo momento sto vivendo proprio questa unione e quindi è stato molto costruttivo e positivo.